nuova ruota dei pokemon che giro adesso vai vai apriamo il primo pacchettino un pacchettino per forza doveva uscire oh mamma allora ce ne sono tre e la carta è quella in mezzo attenzione uno ho fatto bene ho fatto bene due ooo tre ciao a tutti siamo rebi e molly e oggi gireremo la ruota dei pokemon ragazzi li avete già visti questi nuovi pacchettini guardate noi ancora non li abbiamo aperti ci sono solo tre carte per ogni pacchettino e solo una delle tre sarà brillantante e all'interno di questi pacchettini si potrà trovare pikachu il nostro pokemon preferito ma tanto lo sappiamo che sei tu il nostro pokemon preferito non è vero piccolo max come al solito ragazzi abbiamo creato i nostri bigliettini rabbi e molly perché alla fine chi troverà le carte migliori vincerà questa sfida quindi molly posso iniziare io no dobbiamo tirare il dado ok va bene facciamo sesso carta forbici sasso carta forbici si ok molly inizierai tu ma molly ma che ciabatta ti sei messo sono le mie nuove ciabatte di super mario e di super luisi vi piacciono ragazzi guardate no vabbè ma le voglio anch'io queste ciao mario ciao luigi guardate molly comunque sembri mario perché sei vestito tutto rosso e hai pure le sue ciabatte sono bellissime e mi faranno vincere nella nuova ruota dei pokemon che giro adesso questo non lo so perché anche io ho vestito i miei ciabatte di nuove wow non l'ho guardato no mi sono distratta hai girato bene ma ci sono tutti i pacchettini tante uguale vai vai apriamo il primo pacchettino un pacchettino per forza doveva uscire hai ragione hai ragione allora rabbi qua dentro si può trovare pikachu davvero quindi aspetta 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 facciamo una cosa chi dei due trova pikachu ha vinto eh vabbè ma si vincere no pikachu vale tre punti pikachu vale dieci punti dieci ma no è impossibile dieci va bene cinque allora pikachu tre dai va bene ok cinque dai pikachu cinque e tutte le altre brillanti due ok va bene l'hai detto eh va bene va bene vedremo che vincere l'hai detto eh oh mamma allora ce ne sono tre e la carta è quella in mezzo ci sono pochissime carte brillantanti no ce ne è per forza una davvero allora zubat quello che non vorresti avere nei capelli ok poi abbiamo il corvo e non è pikachu eccolo che va direttamente qui e io vado a due punti vabbè vabbè però devo dire che guarda ma chi è questo piccolino qui è pikachu è il logo di pikachu zucca perché queste sono un po le carte di halloween del 2023 ecco perché ok ok tocca a me adesso girare ma domanda posso girare due volte eh direi di no eh ma dai ok 3 e 1 ooooooooh attenzione 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 stavolta la sfida deve essere vera allora questa è una vera sfida bari sempre se no sei pronto non è vero io non baro mai bari in continuazione no non è vero non si apre comunque questo pacchettino è dello stesso colore delle mie unghie hai visto? oh bellissime wow che unghie mi stai prendendo in giro? allora non si apre questa tacchetta ma spacchi tutto oh attenzione ragazzi ecco se c'era pikachu l'hai distrutto eh ho visto qualcosa che brilla eh se la fai? attenzione attenzione abbiamo detto che è quella nel mezzo oh fai vedere vado a vedere vado a vedere vado a vedere vado a vedere ecco si vai 1 eccolo 2 è bella oh era già questa? si ma no ma dai spoiler subito così dammi dammi guarda allora vediamo cosa hai trovato fai un sacco di danni eh comunque hai trovato Marshadow ok però la tua era una holo e la mia una reverse no no sono tutte e due holo ma no questa è brillantante ai lati eh vabbè sono un po' diverse dai ok ok va bene prima o poi compreremo un corso accelerato di pokemon per la Reby si si giriamo mentre giriamo e oh vediamo un po' un pacchettino verde allora diciamo che questa volta qualsiasi pacchettino si prende all'inizio ma poi ci saranno i pezzi vuoti che non si dovranno prendere e le zucche vuote come la Reby ah 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 che simpatico sentiamo se qua c'è qualcosa no non c'è proprio niente c'è un sacco c'è un sacco allora sei pronta? vediamo un po' prontissima allora guarda dopo devi far così questa la metti dietro comunque non c'è neanche il codicino in queste carte non c'è neanche il codicino pokemon fuoco nooo che carino poi abbiamo nooo e poi abbiamo proprio lui tre lamp ma chi è? è un albero molto è un albero cattivo un albero cattivo ok e sono tutti mostrissato lì un po' di halloween va bene però qua bisogna trovare qualcosa di più potente perché altrimenti è normale che vincerai tu hai iniziato per primo non è vero perché se capito dove non c'è il pacchettino sono fregato giusto giusto attaccamento attenzione attenzione rullo di taburi ooooo vediamo un po' ok iniziano a esserci qualche pezzettini bianchi eh allora era qua eh non l'ho barato era qua quindi prendiamo il pacchettino e spacchettiamo vediamo vediamo un pacchettino comunque dovrebbero fare non lo so una linguetta qualcosa perché così è impossibile la tena la tena ma solo te non riesci ad aprire i pacchettini dai è difficile guarda aprire i pacchettini ma che dici allora ho trovato il modo è difficile aprirli come fai te no guarda che l'ho aperto benissimo e non ho neanche spaccato il pacchettino attenzione non spogliarla allora facciamo così la metto dietro ecco sarà quella giusta? non lo so vai vai proviamo lui chi è? oh è uno pseudo pikachu eh attenzione uno ha fatto bene ha fatto bene uno tre tre beh è carina eh ok il candelabro della bella e la bestia no vabbè comunque ci aggiunge alla reny va bene e per ora siamo ancora pari siamo ancora pari per ora purtroppo va bene questa cosa per favore al contrario pikachu oh perché dire con la ruota al contrario potrebbe portare sfortuna e invece e invece porta fortuna e invece ha portato fortuna va bene posso essere due volte? no e comunque guardate ragazzi l'armata si sta svuotando chi sarebbe se si sarà pikachu qua dentro ma team machine non c'è? no come non c'è? è un parezzo dopo ma come non c'è pikachu? potrebbe esserci ma magari no non è detto dai dai guardiamo 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 sono troppo curiosa sei pronta? prontissima vado eh vai vediamo un po' vediamo vuole come si sveglia la mattina nooo cosa? non è pikachu non è pikachu è lui quella carta che hai trovato prima è marshmallow è marshmallow è il marshmallow cattivo di alu ok che è bruciacchiato ok io direi che lo mettiamo qui nooo sto scherzando è qui guarda è qui quindi ragazzi sono a sei allora io direi di movimentare un po' il gioco no non movimentiamo faccio un altro gioco no facciamo una cosa che adesso tocca a me e poi faccio un altro gioco no 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 movimentiamo un po' il gioco dai 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 movimentiamo un po' il gioco dai dai movimentiamo un po' il gioco no dai ce ne fai due io però ne faccio quattro no non movimentiamo un po' il gioco mettiamo sta regola perchè mi sono stancato due giusto così giusto così due no no voglio vincere anch'io per una volta basta ok quattro volte l'ho detto tre volte tre volte allora non tiri basta non prendi il pacchetto vabbè non tiro basta barare voglio l'hashtag qua sotto i commenti rebbi a hashtag rebbi basta barare ma non ho barato si vuol sempre fare i tiri perchè così questo è il karma si chiama karma ah no non ci fare neanche piccafì questo succede perchè sei stato un bambino cattivo bla 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 adesso da capo speriamo di non prendere il buco quanto no un'altra volta no no rebbi due giri a testa due giri a testa due giri a testa Però io ne faccio uno in più però Tre giri Non è giusto che senso ha se non lo prendi Ma lo prendo tre giri Che ladra Ma non è vero Non riesci neanche da bere Io dovrei farne quattro Ma allora cosa si guadagna Chi non tira Tiri tre giri dopo Ecco cosa ci guadagna Ci manca solo che trovi pikas Attenzione c'è di nuovo Molly appena sveglio Un corvo Poi la tazzina Ma qui è tutto bello e la bestia E poi Ancora No un doppione Allora ragazzi La fortuna Non è dalla mia parte Vabbè mi sei a sei e io sono a sei Ma purtroppo io so tre giri Uno Attenzione attenzione perché potresti anche tu Beccare il vuoto Dai ma che fortuna Ti sta bene Ti sta bene Dai 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 me lo merito Me lo merito Me lo merito E se becco il tre ti sta benissimo No Me lo merito Me lo merito Dai 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 No Va bene va bene va bene va bene Se no mi stracciavi qua eh Allora quindi abbiamo due pacchettini bananini E ci possono essere due pikachu Potenzialmente Magari ti immagini No No se ci sono i pikachu me ne vado Me ne vado se trovi i pikachu Che stai facendo? Eh non vale qui fare tutte queste magaggie Che c'è? Ok 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 No non è pikachu È un pokemon fuoco Però sembrava un sacco brillantante È un cagnolino Vabbè Non direi Hold on Sì è un cagnolino A me sembra più un draghetto È un cane infernale Vabbè va bene ok Lo mettiamo qua Che abbaia tutta la notte Perfetto E adesso? Un altro pacchettini Oh mamma ragazzi Non sbirciare Non è pikachu Sei sicuro? O forse sì Sei sicuro? O forse sì O forse No No Mimikyu Beh carino però Me lo dai? No Me lo regali? E io vado a 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Dai E io quante sono? 6 6 6 6 6 Beh vorrei dire che adesso faccio 4 giri No 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 Si torna al giro normale Allora Pollettini e pollettine Il consiglio d'amministrazione Si è riunito E abbiamo deciso di fare due giri Vai Due giri Uno Vediamo Ovviamente No Ok E poi due Due E poi due No 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 Dai questo qui va a pezzo No Reby no Tre No me ne faccio tre Ti sta bene Ti sta bene Vedi barare Cosa succede ragazzi Non barate mai Perché avete visto La Reby che fine ha fatto Reby mi dispiace È il gioco È il gioco Guardate quanto è fortunellissimo È il gioco Ma come fai a girare No secondo me lui sta tenendo una mano mentre gira La volta là dietro La ferma Non sto facendo niente Alta le mani Alta le mani Alta le mani È il gioco Dai no Non ci posso credere Puoi fare tre giri E tre giri Sono Ok due Abbiamo rischiato anche il terzo Ok vai Rischiato anche il terzo Dai Reby Io direi che dopo questo spacchettamento stravinto Eh direi di sì Dai guarda quante carte hai e quanti pacchettini Però Io sono rimasta tre Se ci fosse Pikachu potresti vincere Eh vabbè ma come faccio Non riesco neanche a prendere un pacchettino Vediamo Attenzione Attenzione un altro cane Un altro cane di prima Niente vai basta basta Forza forza un altro pacchettino Mamma mia se qui sei Pikachu volo No 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 Non ci può essere Pikachu Sei già sulla tua testa Se qua c'è Pikachu Reby Attenzione Sei pronta? No non sono pronta Sei pronta? Non sono pronta Vediamo Sono pronta Oh Jengar Il fantasmino Jengar E con questo vado a concludere la sfida Della ruota dei Pokémon Ho vinto Ragazzi mi arrendo Ho ormai tantissime carte E io sono rimasta tre E quindi strizziamo qua L'orecchia di Pikachu L'orecchia di Pikachu è mia E continuerò a fare così tutto il tempo Ragazzi per un altro video dei Pokémon Lasciate un mi piace Fateci sapere se volete un altro video Ci vediamo al prossimo Ciao Ciao Ciao